Tutti pensano che la vita in studio per i musicisti sia un momento di concentrazione assoluta e di impegno totale. Per noi in realtà è stata una lunghissima vacanza che chissà quando potremmo ripermetterci. Io che sono un po' il direttore dei lavori di questo collettivo mi sono preso questi circa quattro mesi per registrare il disco, cosa che chissà quando potrà ricapitare nella mia vita. Io sono un italiano Io sono un italiano Io sono un italiano Jonathan ha detto anche il ragno da Fabrizio, ha suonato in più tracce, ci ha dato una mano proprio ad arrangiare un paio di canzoni, ha suonato strumenti un po' meno utilizzati tipo l'ukulele, la chitarra classica, svoltando completamente queste tracce. Io sono un italiano Io sono un italiano I momenti molto importanti di questa registrazione sono stati comunque i pasti, cioè i pranzi e le cene, di cui abbiamo veramente dato il meglio di noi, forse molto più che dal punto di vista musicale, ci siamo riscoperti dei super cuochi e credo di aver vinto molto modestamente la gara. Io sono un italiano Io sono un italiano Io sono un italiano